Si è svolta sabato la sede di Vieni Castro a Ragusa e l'Assemblea Ordinaria dei Medici Chirurghi Odontoiatri, indetta dall'Ordine Provinciale di Ragusa. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto su un anno complesso per la sanità in generale e per quella locale in particolare. Manca un modo per passare il rassegno alle tante iniziative portate avanti dall'Ordine dei Medici Bleo. Tanti gli impegni portati avanti a livello nazionale e locale, a partire dall'attenzione alla formazione professionale, con la priorità assoluta di incentivare il numero dei medici di medicina generale, fino alla responsabilità professionale, alla difesa assoluta della professione medica a fronte del disegno legge Lorenzin e ancora a pressione per un maggior finanziamento del sistema sanitario nazionale. È stato promosso anche un confronto tra l'Ordine e le sigle sindacali per analizzare la situazione attuale dopo il decreto approvato dalla Regione in merito alla riorganizzazione della nuova rete ospedaliera. Siamo soddisfatti dai veri impegni che abbiamo svolto in quest'anno di attività, ha commentato Salvatore Damanti, presidente dell'Ordine, che affronta anche la questione del nuovo ospedale di Ragusa. Gli indubbi danni che ne conseguono, sia per l'utenza che per gli operatori sanitari, ha dichiarato Damanti, sono sotto gli occhi di tutta la cittadinanza. Pertanto sente il dovere morale di fare un appello a tutti gli attori coinvolti affinché si adoperino tempestivamente per riportare la normalità nell'assistenza sanitaria della nostra provincia. Al termine dell'Assemblea, il prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, ha inaugurato la nuova ala della sede dell'Ordine in Vienicastro a Ragusa. Prevista anche una sala di ritrovo e riunione per i medici che ne vogliono fare uso, alle cui pareti sono stati esposti alcuni quadri del medico, nonché pittore Agostino Alagna.